Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Infipili per lavori tra l'Astra Signa e Ginestra Fiorentina, 3 km di coda verso Livorno e 1 km di coda verso Firenze. In A1 verso Bologna per lavori corsie di destra chiuse tra Firenze in Pruneta e Firenze Scandici. Per questi lavori è chiuso lo svincolo di Firenze in Pruneta in uscita provenendo da Roma in entrata verso Bologna e ci sono 2 km di coda tra Firenze Sud e Firenze in Pruneta. Verso Roma code tra Aglio e Calenzano e tra Firenze in Pruneta e in Cisare e Gello. In A11 code tra Montecatini e Pistoia verso Firenze e tra Prato Ovest e Pistoia verso Pisa. Infine per i treni per accertamenti dell'autorità giudiziaria e nell'ambito della stazione di Arezzo la circolazione dei treni è temporaneamente sospesa. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!